Su Sensor Civico, la piattaforma segnalata ci per il suo funzionamento da alcuni telespettatori, su cui i cittadini possono formulare suggerimenti, segnalazioni e reclami su un mappa per il miglioramento della qualità dei servizi offerti e la vivibilità, che in pratica sarebbe la versione digitale di uno sportello 2.0 tra cittadini ed ente comunale, il Comune sospenderà temporaneamente il servizio che sarà potenziato e riattivato entro la prossima estate, come ci spiega l'assessore all'innovazione e alla digitalizzazione di Giuseppe Lamenza. Il Comune di Caltanissetta, già nei primi mesi di insediamento, lo aveva introdotto sperimentalmente per dare un servizio online di segnalazione di eventuali disservizi percepiti dalla cittadinanza, dice l'assessore. L'intenzione reale, dichiarata pubblicamente a suo tempo, è stata quella di introdurre un metodo nuovo nella gestione della manutenzione. La maggior parte delle segnalazioni, infatti, ha riguardato le manutenzioni stradali e ambientali in città, in grado di rendere più efficaci percorsi di soluzione delle problematiche quotidiane, al contempo di introdurre un rapporto più rapido e diretto tra uffici e cittadino. L'arrivo della pandemia, meno di sei mesi dopo la sua introduzione, ha inficiato l'applicabilità dei processi di lavoro già esistenti, impedendo il corretto svolgimento del piano inizialmente predisposto. Il fenomeno pandemico, spiega ancora l'assessore, ha rivoluzionato la normale gestione di tanti servizi comunali, implicando una incessante e continua revisione dei processi di lavoro per adeguarli all'imprevedibile contingenza delle dinamiche operative, segnalata dai continui riadattamenti necessari a gestire le emergenze, tanto da aver reso attualmente la gestione del servizio un elemento di irriducibile e aggravio della complessità dell'attività amministrativa. E conclude, infine, non solo per questa ragione il Comune ritiene opportuno di sospendere temporaneamente il servizio, ma anche in considerazione del fatto che, in virtù dei finanziamenti ottenuti, sia grazie al programma Agenda Urbana che al PNRR, il servizio di segnalazione sarà rilasciato online entro il prossimo anno, integrato nel più ampio progetto di gestione dei flussi informativi tra il Comune ed il suo pubblico, che verrà rilasciato entro l'estate prossima.